Grazie a tutti. La vita di Vigo, l'uomo è la misura del possibile. È una tragedia che ha colpito molti di noi. Io mi sono realizzato in un nuovo ambiente. Molti di voi mi chiedono come l'hai fatta un film del Vigo, ragione molto. E io rispondo, paradossalmente il clima è meglio di molti di voi. Perché? Perché voi avete la luce di 12 ore al giorno. Io ho 24 ore al giorno, paradossalmente. E dunque, io che ero lì presentino, avevo sentito la prima scoppa del primo suo movimento, mi sono messo quella che io ero portata in mano. Io sono finito solo per sbattere uomini, 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 tutto quanto. E ho dovuto dare tutti gli occhi. Dalla scoppa della 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 scoppa. Dalla scoppa della 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 scoppa Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.